Un primo passo simbolico ma concreto verso il ritorno alla normalità. Finalmente oggi consegniamo alla città questo piccolo impianto sportivo, un campetto da basket che sarà sicuramente simbolo della ripartenza di questa città. Riempie il cuore vedere tutti questi ragazzi che adesso alle mie spalle stanno finalmente ritornando a giocare e a fare sport. Oltre alla soddisfazione di restituire alla città uno spazio che ha una funzione anche di carattere sociale ed educativo ma anche il simbolo di una ripartenza della nostra città che sicuramente tornerà ad essere più bella, più ospitale, insomma una bella San Giovanni normale. Chiaramente un bocca al lupo, un augurio che faccio all'associazione che gestirà questo campetto. come dire, è un campetto che è proprietà di tutti, abbiamo ne cura tutti quanti.